Duro colpo al Clanderosa. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Giuliano hanno emesso l'esecuzione di custodia cautelare in carcere su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 19 persone, di cui 7 detenute in carcere ed una agli arresti domiciliari, tutti appartenenti al Clanderosa, operante nel territorio di Qualiano e specializzato nell'estorsione. L'indagine portata avanti anche grazie a testimonianze delle vittime ha evidenziato tutti i ruoli degli indagati in cui figuravano tre donne ai vertici del clan, gestivano le attività illecite, informavano i mariti in carcere e gestivano le attività estorsive di alcuni noleggiatori di videopoker. Altri due indagati sono stati invece trovati in possesso di 50 dosi di hashish e cocaina. Questa è solo l'ultima delle spallate dello Stato ad un clan che ha spadroneggiato a lungo nel Qualianese, con le armi del sangue e della paura. Un clan che non ha esitato ad uccidere per l'egemonia territoriale.